Che Fidelisandria ritroverà Mirko Cudini? La domanda sorge spontanea con vista sulla prima uscita ufficiale della formazione riaffidata all'allenatore originario di Porto Sant'Elpidio programmata domenica alle 17.30 nel derby di Monopoli. A poco più di quattro mesi da quell'esonero successivo allo 0-0 sul campo della Gelbison, avversario risultato fatale anche per le sorti in panchina di Bruno Trocini nel girone di ritorno, Cudini riprenderà il di una squadra che aveva costruito in estate con il direttore sportivo Sandro Federico, anche lui sollevato dall'incarico a quattro mesi dall'avvio dell'esperienza andriese con l'allenatore, ma che nel mezzo ha vissuto un calciomercato invernale nel segno della rivoluzione. 13 innesti, compreso quello di Costa Ferreira a finestre di trattativa e conclusa e 10 a di, 7 dei quali presenti alla voce acquisti nella prima versione della Fidelis di Cudini, da Persichini a Milillo, passando per Aziosmanovic, Fabriani, Zamarionne e Zenelai fino a Sipos. Nomi che, per quanto è stata sinquillo, gorante e avara di soddisfazioni, la stagione della Fidelisandria sembrano appartenere a un passato lontanissimo. In realtà sono trascorsi solo pochi mesi dai loro arrivi in Puglia e alcuni di loro erano in campo nella prima uscita ufficiale in campionato della squadra. 4 settembre 2022 Fidelisandria Potenza 0-0. Di quell'11 di partenza sono rimasti in organico Savini, tornato titolare al posto di Polverino nelle scorse settimane, Dalmazzi, Mariani, Candellori, Arrigoni, Paolini, Pavone e Bolzius. Proprio quest'ultimo, assente contro la Gelbison per squalifica e miglior marcatore della squadra con 5 reti, dovrebbe far ritorno tra i titolari al Veneziani. Mariani è finito ai margini, Paolini e Pavone, rilanciato proprio sabato scorso dal primo minuto, raramente sono stati presi in considerazione da Trocini tra i titolari. Così le certezze sono Arrigoni, Candellori e Dalmazzi, non a caso i tre giocatori con maggior minutaggio in organico. Quasi certamente si ripartirà dal 4-3-3 o dal 4-2-3-1, mentre c'è curiosità per capire che impiego sarà fatto di Ciotti, ai margini nella prima gestione Cudini è poi diventato titolare inamovibile e dei tanti giocatori arrivati a stagione in corso. A prescindere dagli interpreti c'è però una certezza, per credere in quel piazzamento play-out, oggi distante 5 punti, in queste ultime otto giornate servirà una disperata fame di risultati, quella che passa per l'atteggiamento prima ancora che per i numeri.